ed eccoci qua con il terzo e ultimo video registrato il 4 di agosto so anche che giorno è oggi, sono proprio quasi meravigliata allora, questo è un video haul, è un video haul china ovvero sono andata dal mio cinesino vicino a dove lavoro e ho preso proprio due cosine, però mi faceva piacere farvele vedere parto con gli orecchini, che sono tre paia e uno delle tre paia va ad abbinarsi a un'altra cosa che ho acquistato allora, il primo paio, li tiro fuori dalla plastica così li vedete meglio il primo paio è questo, l'ho pagato solo 3 euro e sono praticamente degli orecchini a spirale argentati con i brillantini molto molto carini, sono anche piuttosto leggeri, quindi mi piacciono io ho bisogno di orecchini leggeri perché ho i buchi delle orecchie poverini, torturati e molto ampi al momento per tutti i pesi che hanno subito quindi devo assolutamente utilizzare orecchini leggeri perché sennò mi fanno male e tendono ad allungarmi ancora di più il lobo o meglio, il buco che ho sul lobo ok, secondo paio di orecchini questi sono veramente teneri, teneri, teneri mi sono piaciuti un sacco sono quelli che ho pagato un po' di più perché li ho pagati 5 euro e sono dei gattini appollaiati su delle perle guardate che carini sì, mi piacevano un sacco quando voglio mettere un orecchino un po' più piccolo questi sono sia eleganti perché hanno la perla sia molto molto carini perché hanno i gattini quindi assolutamente mi sono piaciuti un sacco e poi il terzo paio di orecchini che vi farò vedere è un total arancione e li ho presi, vabbè, in parte perché non ho orecchini arancioni e in parte perché ho acquistato qualcosa di arancione a cui abbinarli quindi sono veramente grossi, devo dire li ho pagati 4 euro però sono anche molto leggeri quindi sono piuttosto portabili e questi qua me li metterò domani sera spero anche di riuscire a fare l'outfit con un vestitino che ho preso per andare a cena fuori col mio fidanzato e i suoi colleghi ed è questo qua un tubino super elasticizzato arancione fluo con una cerniera che praticamente va a chiudere tutto il vestito quindi se si spacca la cerniera il resto è mutante però teniamo le dita incrociate e speriamo bene quindi il tubino l'ho pagato semplicemente 10 euro veniva a 13 ma è nascontato a 10 quindi tubino così arancione è molto carino indossato c'erano rimasti solo in arancione e rosa rosa ne ho già due quindi l'ho preso arancione e l'ultimo acquistino che ho fatto è una canottierina che ho pagato solo 5 euro ed è di questo bel colore vinaccia bruciato molto semplice sul davanti ma molto carina dietro perché è tutta di pizzo nella schiena quindi mi piaceva sia il colore perché non ne ho di questa tinta sia il fatto che davanti fosse molto semplice dietro molto pizzettosa ok a questo punto direi che anche il video allo è terminato penso di essere stata più rapida possibile credo nella storia dei miei video questi dovrebbero essere i tra più corti e nulla vi mando un bacione enorme e al prossimo video ciao ragazze